ciao benvenuti e benvenute a versi persi voce li dice qui oggi io voglio dire i versi di a rifare il mondo scritti da Ilaria Rigoli e illustrati da Ilaria Faccioli per bonpiani a rifare il mondo si può partire dalle parole sì io vorrei proprio partire dalla prima di queste 60 poesie che si intitola proprio così vediamo un po andiamo a rifare il mondo serviranno le parole brave le parole forti le parole verdi servirà il silenzio delle foreste il pensiero di tutte le teste serviranno giorni serviranno mani serviranno la rabbia di oggi e la pace di domani andiamo a rifare il mondo rifacciamolo tutto da capo ricreiamo il creato serviranno le storie le canzoni serviranno le zappe i picconi le parole di legno le parole di terra le parole alte le parole buone le parole sciocche quelle di sogno e quelle di sogno serviranno le notti di buio e di luna serviranno le parole sagge una per una quelle di sonno quelle di veglia andiamo a rifare il mondo rifacciamolo bene che sia intero senza confine fino alla prossima onda fino alla fine eh sì quante cose quante elementi quante parole servono per rifare il mondo ma qui ilaria in versi che attraversano le stagioni ci parla non solo di quello che si vede fuori ma anche di quello che si sente dentro anche in quei giorni in cui sentiamo che non siamo poi così gradevoli e allora c'è una poesia come comunque c'è nelle cose male nelle giornate brune una canzone nello sporco per terra nella guerra dell'erba con l'asfalto dentro me quando sono bassa sono cattiva e pigra e senza fame c'è comunque c'è una canzone e poi ma ce n'era una che ho sentito mia e la voglio dire per non perderla si intitola piangere io quando piango non sempre sono triste è che a volte dentro mi sento come un mare passa un'onda più alta bisogna farla uscire è che a volte dentro c'è qualcosa che trabocca e allora mi tocca di piangere perché c'è troppo mondo e allora non è giusto perché non sono grande abbastanza sarebbe come mettere il cielo in una stanza e allora a voi quando capita di di venire di piangere ma non perché siete tristi ma perché c'è qualcosa che trabocca a me capita spesso e a volte la sensazione è proprio quella di essere troppo piccola per quello che sento ma quando si è piccoli anche d'età come ci si sente è questo che riesce a fare l'aria riesce a farci mettere nei panni di chi è bambino di chi è bambina e voi bambini vi rispecchiate in queste parole in questi versi cosa ne pensate e quali altri versi vorreste non perdere trovare dire dire voi o che li dica io scrivetemelo e voglio chiudere con l'ultima delle poesie l'ultima l'ultima ha a che fare con un qualcosa che è così difficile da ottenere a volte è anche difficile da sostenere da sopportare e il silenzio si intitola zitti e allora stiamo un po' in silenzio vuoi alla fine distesi sopra un letto su un divano immobili e lassù i nostri pensieri passeggiano così così leggeri per mano sul cielo del soffitto il mondo il mondo è molto bello perfino quando è zitto non trovi e dopo quando parli tutti i suoni ti sembrano più nuovi è come se d'autunno dopo il vento venisse un giorno immobile di sole le foglie si riposano per terra ed ogni cosa è in pace e niente in guerra grazie a Ilaria e anche a Ilaria a rifare il mondo questi versi bisogna dirli per non perderli ciao